Ispettori Polleghe Maloney? Questa notte è stato rinvenuto il corpo senza vinto di Jack Toto. Vorrei sapere se la notte del 15 settembre i tuoi giocattoli hanno rilevato qualcosa di strano nei cieli di Kirlan. Presto sergente, si muovono. Lei non andrà da nessuna parte, maggiore. Sicuramente si tratta di una sostanza nuova. Oserei azzardare non terrestre. Lei non ci vorrebbe dire che un inserto o un grande ragno ha ucciso il signor Thornton? Beh, di certo non mi sono più morto. Ma come sta, domini! Sì! Sì! Ehi, capo! Rego sulle lezze! Grazie a tutti Grazie a tutti